Satana ci fa resistenza, si oppone, ci seduce per farci sbagliare strada, ci inganna, ci accusa, ci incolpa, ci condanna in seguito all'accusa, convincendoci della colpa. Bob Mumford scrive questa riflessione nello spirito di verità e di errore, un libro che veramente vi consiglierei di leggere, perché vedete in queste pochissime parole è descritta tutta la tattica ingannevole di Satana. Satana ti fa credere vero ciò che non lo è, Satana ti fa credere che tu stai facendo bene quando invece tu fai male, Satana ti fa credere che quello che tu stai facendo vuoi fare è la giustizia e quando tu poi ti rendi conto di aver sbagliato tutto, Satana continua a toccare le tue ferite facendoti rivoltare contro te stesso, cioè la colpa è la tua, non la mia. La colpa è la tua e ormai per te è finita. Questo è il discorso di Satana. Prima ci seduce. Vedremo poi nelle tre esse di cui vi ho detto di Satana che cosa è la seduzione. Quando uno viene sedotto il cuore è preso tutto per l'oggetto di quella seduzione, vuoi una donna, vuoi anche delle cose che ci possono apparire buone. Se uno per esempio vive solo e soltanto e unicamente per il lavoro, il lavoro è una cosa buona, ma se il lavoro diventa una schiavitù per me, cioè diventa qualcosa che non mi realizza, che non mi rende felice, anche se semmai mi fa guadagnare un sacco di soldi, tutto ciò è seduzione, non è liberazione. Qual è il segno della presenza di Dio? Vedete, Satana seduce, Dio ama, Satana inganna, Dio ti fa vedere la verità anche se questa verità, tra virgolette, si ritorce contro Dio stesso. Satana ti accusa, Dio ti perdona, Satana ti dice che hai sbagliato tutto e che ormai per te non c'è nulla da fare, Dio ti dice hai sbagliato tutto ma puoi riprendere la tua vita, puoi rinascere, puoi ripartire. Ecco la differenza che ci deve aiutare a capire e comprendere la presenza di Dio dall'azione di Satana. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!